la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben trovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News andiamo a sfogliare le pagine del quotidiano il mattino il tema di apertura, la legge elettorale sembrava ormai cosa fatta ormai certa, una nuova legge elettorale che però ora comincia a far registrare dei franchi tiratori all'interno del Parlamento per la votazione vediamo infatti il titolo riferendosi in particolare al Movimento 5 Stelle che inizialmente aveva dato l'ok per questa nuova legge elettorale ma che pare vi sia all'interno del movimento un gruppo che invece non sostiene la legge non ritenendola adeguata e appropriata vediamo il titolo legge elettorale il Movimento 5 Stelle nel caos arriva la mossa di Grillo nuovo voto online per placare i ribelli alla Camera 66 franchi tiratori traballa il patto a 4 votano no alcuni pentastellati ma anche la truppa di Orlando martedì la seduta decisiva e vediamo gli articoli correlati retroscena e alla fine Renzi apre anche sulle urne nel 2018 ricordiamo che il segretario del PD aveva annunciato già con la definizione della legge elettorale il voto per l'autunno si parlava di voto a settembre e invece ora insomma passo indietro del segretario che apre appunto alla scadenza naturale del mandato quindi alle elezioni per il 2018 continuiamo quelli del proporzionale raduno ex DC no di Mastella e Fitto e poi per l'analisi perché tutto è nelle mani dei grillini lasciamo l'argomento politica e legge elettorale ci spostiamo di spalla si parla del Napoli si parla prevalentemente dei ricordi della storia del Napoli che con questa nuova gestione con la gestione dell'Aurentis si è stato spesso sotto accusa proprio il fatto di aver estraniato i vincitori del primo scudetto nell'87 e vediamo il titolo scudetto nell'87 se il Napoli di oggi calpesta la storia questo per quanto riguarda il caso andiamo avanti ci spostiamo a centro pagina dagli esteri terrorismo Iran attacca ISIS e rischio guerra con l'Arabia assalto al Parlamento e al mausoleo di Khomeini 12 i morti e poi per il Russiagate l'ex capo dell'FBI accusa Trump continuiamo l'altro caso che questa volta però riguarda l'Italia l'inchiesta Consip il vice del Noe indagato per depistaggio il colonnello Sessa interrogato sulla fuga di notizie l'ufficiale avrebbe mentito al primo interrogatorio sentito di nuovo Scafarto ancora il focus l'atto di accusa spunta dalle chat tra i carabinieri ci spostiamo di taglio basso vediamo come chiude questa prima pagina del mattino nazionale dagli esteri May e Corbyn l'Europa ha già vinto oggi l'Inghilterra è chiamata al voto con qualsiasi premier la Brexit sarà più dura e ancora cerchi un lavoro devi essere single occupazione del 3,3% più alta rispetto a chi ha un partner record nell'Unione Europea questa è la prima pagina del quotidiano il mattino andiamo avanti andiamo sulle pagine di primo piano e parliamo proprio della nuova legge elettorale lo abbiamo visto dalla prima pagina c'è un ripensamento per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle che pare vi sia un gruppo che si defila dal patto che aveva coinvolto tutti i maggiori partiti su questa legge elettorale si registra all'interno del Parlamento 66 franchi tiratori che hanno detto no a questa legge vediamo il titolo il confronto legge elettorale patto in bilico è la resa dei franchi tiratori è la riscossa scusate dei franchi tiratori al primo test 66 di Belli il segretario PD Movimento 5 Stelle ha già cambiato idea le tappe il voto slitta a martedì rosato non c'è blog che tenga il testo non si cambia vediamo l'aula di Montecitorio è un campo minato dove la legge elettorale può saltare in aria da un momento all'altro il patto a 4 regge ma traballa ieri al voto sulle pregiudiziali l'inedita maggioranza PD Forza Italia Movimento 5 Stelle Lega ha dovuto fare i conti con 66 franchi tiratori e lungo il percorso che dovrebbe condurre all'approvazione definitiva della legge ci sono almeno altre 100 votazioni segrete chieste dai piccoli partiti che si oppongono al sistema tedesco e andiamo di taglio basso ma l'essere IPD e di candidature in Forza Italia attorno allo spettro dei 101 cecchini si scatena la caccia ai dissidenti sospetti sulla pattuglia di Orlando il ministro noi chiedetelo al Movimento 5 Stelle ancora i 5 Stelle Di Maio Tace e Toninelli rilancio i sabotatori andate a vedere tra i piddini e quindi insomma scampio di accuse ma lasciamo questa pagina e la querella sulla legge elettorale e andiamo intanto a vedere qual è la situazione per quanto riguarda l'economia italiana perché dalla BCE arriva una nuova stima per quanto riguarda la crescita dell'Italia una stima a ribasso vediamo il titolo le previsioni inflazione BCE pessimista blindati gli aiuti la crescita l'Ox l'Italia peggiore tra i grandi meglio ritornare alla tassa sulla prima casa crescita ancora a rilento l'Ox si corregge sull'Italia a ribasso le stime per il 2018 il PIL salirà solo dello 0,8% e non dell'1% come era stato previsto appena tre mesi fa a marzo e sarà il peggior risultato fra i paesi monetari dell'organizzazione di Parigi le prospettive per l'Italia si prospettano invece migliori sul fronte della BCE il Summit direttivo Eurotower in Estonia parla Draghi c'è grande attesa e lasciamo questa pagina la pagina dell'economia andiamo ora invece a sfogliare le pagine del mattino di Salerno partiamo dalla prima pagina si parla della sanità in arrivo nuovi medici e chirurghi presso il Ruggi d'Aragona vediamo il titolo Ruggi arrivano chirurghi e cardiologi sbloccate 120 assunzioni cantone 30 medici anche Cava avrà la sua quota ecco il piano del direttore generale il personale sarà distribuito nei 5 ospedali l'obiettivo è coprire tutti i turni la mappa da Procida mancano 5 o 6 infermieri Ravello ha bisogno di tecnici di radiologia e poi l'emergenza sarà data priorità anche al centro tra pianti del rene lì senza camici bianchi la situazione è drammatica e continuiamo i funerali della quindicenne di mercato sanseverino palloncini e petali bianchi per Valentina mentre per quanto riguarda l'istruzione Valzer di presidi in 18 scuole risiconomine in pensione le storiche dirigenti dei licei Severi e De Santis andiamo di fondo i tributi stangata Imo un salasso da 1100 euro e condono per il campetto andiamo a centro pagina per i trasporti freccia rossa in Cilento un'estate da sold out dopo l'inaugurazione della nuova stazione per l'alta velocità di Afragola scatta il countdown anche nel Cilento la data storica per il territorio è quella dell'11 giugno quando alle 13.22 il primo freccia rossa proveniente da Milano farà scalo ad Agropoli successivamente a Vallo della Lucania e poi a Sapri e poi la cronaca droga nella Piana del Sele il push era aggredito in cella gli elmi era nel carcere di Forni e da neanche 24 ore è ritenuto uno degli organizzatori della banda di spacciatori sgominata nel blitz di martedì scorso che aveva coinvolto anche il Vallo di Diano e ancora per la giustizia abusi su una bimba dopo 9 anni processo da rifare per quanto riguarda il calcio parliamo della salernitana impegnata in questo periodo nel calciomercato per rafforzare la squadra e poter raggiungere il prossimo anno la gognata promozione in serie A vediamo come si sta muovendo la società del presidente Lotito vediamo la salernitana chiama signori vorrei di corso il mediano corteggiato da molti club di B Salerno Grande Piazza e lasciamo questa prima pagina del mattino di Salerno continuiamo con le notizie che interessano Salerno e provincia e andiamo sulle pagine dedicate all'istruzione l'abbiamo visto dalla prima pagina si preparano diversi istituti al cambio di dirigente scolastico tra questi anche alcuni istituti del Vallo di Liano in particolare parliamo di Sant'Arsenio vediamo intanto il titolo presidi presidi scusate in pensione via al Valzer in 18 scuole confermati gli addi dei vertici di Severi e De Santis ed è polemica roulette sulle assunzioni vediamo quali sono gli istituti che saranno interessati dal cambio alla guida con un nuovo dirigente scolastico dal prossimo anno le scuole sottodimensionate sono il comprensorio di Fisciano che ha 580 alunni Vietri sul mare la scuola elementare anche di Vietri sul mare oltre all'istituto comprensivo poi la seconda direzione didattica di Pagani il comprensivo di Ravello il comprensivo di Piaggini il comprensivo di Ogliastro Cilento comprensivo di Contursi e comprensivo di Sant'Arsenio ancora a Rofrano Cento la Gioi Cilento Futani e Serre quindi Castelcivita Maiori Pucci l'istituto superiore Pucci di Nocera Inferiore e il Tasso di Salerno vediamo invece quali sono i dirigenti che lasceranno il loro posto con il decreto di pensionamento a firma di Luisa Francese vediamo che tra questi troviamo anche Alberto Rossi dell'istituto Sacco di Sant'Arsenio che conta 833 studenti andiamo avanti istituti anemici ancora senza guida slitta di un anno lo stop alle reggenze per i plessi sottodimensionati niente dirigenti a tempo pieno a settembre gli ennesimi sostituti e poi ancora la tragedia Carolina uccisa da una ritmia al cuore a 17 anni l'esito dell'esame sul corpo della studentessa di Giffoni morta alla fermata del bus e con questa pagina chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa un breve passo pubblicitario poi riprenderemo con la seconda parte restate con noi bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa che apriamo con le pagine della città vediamo il titolo di apertura soglia indagato nell'affaire CIT sequestri e misure interdittive all'ex parlamentare accusato di bancarotta dell'acquisto del gruppo i beni rilevati furono rivenduti ad una società poi fallita coinvolto anche il salernitano Roberto Onesti andiamo avanti ci spostiamo di spalla la legge elettorale in primo piano anche sul quotidiano la città sulla via tedesca l'agguato grillino dopo i franchi tiratori 66 franchi tiratori che si sono registrati ieri durante la discussione a Montecitorio andiamo avanti perché torneremo su questo tema nelle pagine di primo piano ora per quanto riguarda invece la fotonotizia a centropagina a forni e guerra tra reclusi soltanto l'intervento degli agenti di custodia ha impedito il peggio il sindacato teme la spirale di violenza e invoca misure concrete ci spostiamo di spalla firma con polemiche vaccini obbligatori approvato il decreto e poi l'allarme dal quotidiano la città attenti ai risparmi Equitalia ora punta ai conti dei cittadini andiamo di taglio basso in viaggio sul 26 il bus fantasma a noi per voi verso Canalone poi ancora troverete all'interno della città anche le notizie di sport ampiamente dedicate alla Salernitana e al mercato in vista della prossima stagione sportiva 2017-2018 intanto una notizia riconferma di coda in tre mosse questa è la prima pagina del quotidiano la città continuiamo su questo quotidiano e andiamo sulle pagine di primo piano per vedere quali sono le notizie trattate dalla città per quanto riguarda la legge elettorale ricordiamo ieri il voto a Montecitorio con 66 franchi tiratori vediamo il titolo grillini e franchi tiratori minano il patto a 4 il modello tedesco si infrange sulle faide nel PD e sui ripensamenti di Movimento 5 Stelle Renzi accusa il movimento che si riaffida al web martedì prossimo il nuovo voto continuiamo un sistema costruito per fare le larghe intese il segretario provinciale di sinistra italiana Franco Mari fa le pulce al testo il numero di candidati per partito non consentirebbe una sola maggioranza andiamo avanti lista unitaria sì ma senza investiture autoreferenziali la scelta di leader e aspiranti parlamentari deve essere fatta attraverso le primarie queste le parole del segretario provinciale di sinistra italiana non possiamo esimerci dalle critiche al governo Gentiloni perché si muove in una linea di continuità con chi l'ha preceduto vanno tolte le ambiguità e andiamo avanti di taglio basso la post democrazia del nulla Beppe Silvio e Due Mattei uniti nella demagogia il modello è quello dell'antipolitica che toglie i cittadini il loro diritto alla rappresentanza Napolitano Grasso e Labboldrini non possono aver parlato senza prima consultarsi con il presidente Mattarella e lasciamo questa pagina dedicata alla legge elettorale andiamo ora invece sulle pagine che interessano il nostro territorio quindi sulle pagine dedicate alle notizie del Cilento del Vallo di Diano e degli Alburni si torna a parlare di carrenza idrica anche nel Vallo di Diano dopo l'allarme lanciato alcuni giorni fa dalla Consa che vediamo il titolo carenza idrica nel Diano nuovo allarme del Consac in un dossier del Consorzio e timori di riduzione della portata per le scarse piogge numerosi comuni hanno già adottato provvedimenti per combattere gli sprechi nel Vallo di Diano e nei comuni del comprensorio limitrofi si preannuncia un'estate particolarmente critica per quanto riguarda l'erogazione dell'acqua potabile la causa principale del problema è la scarsità delle piogge che hanno subito una riduzione del 40% rispetto alla media degli ultimi 20 anni il dato è contenuto nel dossier della crisi idrica redatto dal Consac che nel comprensorio valdanese gestisce buona parte delle reti idriche andiamo avanti via abilità negli alburni sicignano e le aree interne in provincia intesa sulle strade a centro pagina invece Vallo della Lucania visi perici e tarso non pagate centinaia di cartelle in arrivo per mancati o parziali versamenti mentre a sala Consilina il tifo anti Juve diventa solidarietà i soldi dei fuochi per celebrare la sconfitta della Juventus in Champions League saranno interamente devoluti al bimbo ferito in piazza San Carlo proprio durante la proiezione durante la trasmissione della gara di Champions League quando una persona un ragazzo ha lanciato un ipotetico allarme e bomba che ha poi insomma provocato tantissimi feriti oltre 1500 feriti ricorderete insomma il dramma vissuto a Torino bene da sala Consilina arriva questo gesto di solidarietà per il bimbo ferito che insomma tanta paura proprio per le sue condizioni che fortunatamente sembra si stia ristabilendo lasciamo questo argomento andiamo di taglio basso vediamo come chiude questa pagina dedicata alle notizie del Vallo di Diano e del Cilento vediamo prevenzione urologica visite all'ospedale Luigi Curto di Polla e poi a Vibonati invece aggressione ad Abate la minoranza chiede chiarezza bisogna che si faccia piena luce sulla denuncia presentata da Paolo Abate in merito a quanto accaduto in località Santa Lucia a dirlo sono il gruppo di minoranza Vivi il tuo paese con i consiglieri Manuel Borrelli Gaetano Capuano e Gerardo Di Giacomo che hanno chiesto al sindaco Franco Burusco e al comandante della polizia Antonio Quintieri oltre che al segretario comunale e al prefetto Salvatore Malfi di avviare con urgenza un'indagine interna sulle dichiarazioni dell'attivista del WWF e lasciamo anche questa pagina dedicata al nostro territorio per spostarci ora sulle pagine sportive vediamo come si sta muovendo la Salernitana in chiave calciomercato per presentarsi al meglio alla prossima stagione sportiva e puntare alla promozione in serie A vediamo in scadenza le sette spine della Salernitana alcuni elementi della rosa potrebbero liberarsi a parametro zero a fine anno Bernardini Tuia e Perico guidano il gruppo di calciatori che tra 12 mesi saranno liberi di firmare contratti con altri club e intanto si lavora per tenere coda il club prepara tre mosse l'attaccante ha richieste anche in serie A ma la società vuole confermarlo Gomis una seconda punta forte la fascia di capitano per convincerlo e poi il tecnico Bollini ritorno opinionista e commenterà per la Rai l'europeo under 21 lasciamo le pagine con queste pagine sportive il quotidiano la città per andare invece a sfogliare le pagine di Le Crona che vediamo dalla prima pagina quali sono innanzitutto i principali argomenti vediamo vediamo il titolo di apertura al regolamento di conti Gaetano Glielmi arrestato lunedì nel blitz contro il busillo si scatena nell'ora d'aria la vittima si chiama Emanuele Sessa picchiato perché avrebbe accusato l'aggressore carcere ad alto rischio l'argomento di apertura per le cronache continuiamo perché si parla di politica e si parla anche sulle cronache della nuova legge elettorale si fanno le prime valutazioni nel caso in cui questa nuova legge elettorale che ieri insomma ha fatto registrare dei franchitiratori all'interno durante la discussione a Montecitorio vediamo invece come si sta muovendo il partito di Forza Italia ipotizzando un passaggio di questa legge elettorale elezioni la linea di Forza Italia nel listino chi copre i collegi avanza l'ipotesi Ciccone un posto anche a Mastella che pensa di inserire il figlio De Girolamo Sarro e Ruggero Blindati al Senato la riconferma di Fasano Mara Carfagna capolista a Napoli MDP chiude con Ragosta e De Simone con la nuova legge elettorale salvo sorprese gli azzurri dovrebbero essere già pronti andiamo andiamo avanti usura annullata all'assoluzione per il Ricciardiello e il promoter gli atti alla corte di appello di Napoli in secondo grado assolti dopo una prima condanna Luigi già titolare del rinomato Love's Bar di Pellizzi il figlio Giovanni e il promoter finanziario di Ponte Cagnano Francesco Coppola 54 anni tornano alla sbarra per decisione della Cassazione continuiamo il blitz Soglia Group sequestrati sette villaggi turistici ancora Giffoni Carolane stroncata da un infarto mentre a Pagani oltraggio alla memoria di Marcello Torre vediamo come chiude questa prima pagina di Le Cronache quei legami di Scafati e Pompei con gli scissionisti di Erniro i collegamenti tra l'agro il Vesuviano e la camorra di Scampia la camorra assicurava il finanziere di Nocera Claudio Auricchio soldi e cantanti neomelodici per la festa della prima comunione la rete scafatese per coprire Girati e la loro latitanza questa è la prima pagina di Le Cronache continuiamo con le pagine interne quelle che interessano la parte sud della provincia di Salerno dove in apertura andiamo ad Agropoli il centro antitumori non chiude una nota dell'amministratore delegato rassicura sia i pazienti che le famiglie dopo il licenziamento di un medico Valerio Scotti si temeva che il centro radiosurgency di Agropoli fosse ora destinato a chiudere andiamo di Taglio Alto dove domani sera sarà presentato presso l'ex convento della Santissima Pietà di Teggiano l'ultimo libro dell'onorevole Carmelo Conte una presentazione arrivata grazie alla collaborazione al sostegno della fondazione Mare Nostrum e della banca Montepruno vediamo il titolo Gava De Mita Craxi e Renzi la politica di Carmelo Conte il nuovo libro dell'ex ministro nel complesso della Santissima Pietà la presentazione avverrà domani alle ore 19 come detto nel complesso della Santissima Pietà di Teggiano nel Cilento le scuole si spopolano scatta l'allarme nei comuni del Cilento le iscrizioni sono calate del 40% circa a Polla la cronaca un latitante va in banca per un prelievo ma i carabinieri lo arrestano i domiciliari per non essersi fermato all'alt e aver travolto i poliziotti e con questa pagina dedicata alle notizie del nostro territorio chiudiamo questa rassegna stampa io vi ricordo alle 13.45 l'appuntamento con il nostro Tg grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata Grazie a tutti